Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Firenze in Pruneta e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Sempre verso Bologna per traffico intenso rallentamenti tra Baldarno e Firenze Sud. In A11 code per traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla FIPL code per viabilità esterna che non riceve in uscita la strassigna provenendo da Firenze. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per la viabilità cittadina a Firenze e per i cantieri della tramvia da domani lavori in piazza della Costituzione. Chiuso il ponte sul Mugnone fino al 15 settembre. Muoversi in Toscana Info in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Mugnone fino al 15 settembre.